Siamo qui con Tommaso Cercatelli, Mario Mucci, Mario Seghi, che sta arrivando, della band Mario Seghi Organ Group, se lo vogliamo definire così, e niente, noi facciamo soul jazz, il repertorio di Jimmy Smith, e comunque ne parla meglio Mario, se lo facciamo. Sì, è la classica formazione dell'organ trio, anni 50, con tutti i pezzi di Jimmy Smith e di altri grandi organisti, anche organisti italiani come Alberto Marzio, con i più grandi esponenti dell'Hemmond in Italia. È un genere sia bello da suonare per noi, ma anche da ascoltare perché è molto easy listening, perché c'è melodia, ritmo e groove, quindi la gente può ballettare e ascoltare delle belle melodie, e noi abbiamo lo spazio per fare la nostra improvvisazione. Mi sei sembrato un po' più preparato, se non via. Ricordiamo il nome della band. Enrico Seghi Organ Group. Ok, grazie.